Dottoressa Lusso, chiamo ora il professor Ernesto D'Aloia, direttore dell'unità operativa di medicina legale, nonché presidente del centro di bioetica clinica del Mediterraneo per affrontare un tema abbastanza importante, bioetica e comunicazione con il malato. Grazie. Grazie per l'invito, buongiorno a tutti. Sì, in realtà il tema che mi sono dato non può essere diciamo omnicomprensivo di tutti i problemi che sottendono un rapporto di cura e di assistenza con un paziente all'interno dell'hospice e quello che ho cercato di fare e spero di riuscire a fare insieme a voi è cercare di capire come la comunicazione con il malato, in realtà che dovrebbe essere la cosa che ci viene più naturale al mondo, ha in realtà una serie di difficoltà e di problemi che devono essere affrontati in una maniera diciamo con un minimo di attenzione. Comunicazione che sta diventando molto spesso la cosa più importante che noi abbiamo per il semplice fatto che aumentano gli ambiti della medicina dove la sola informazione spesso è atto medico in sé, cioè abbiamo solo la possibilità di non, i nostri strumenti sono spuntati abbiamo soltanto possibilità di dare informazione e quindi la completezza, la competenza di dare informazione è esattamente la maniera di fare medicina. Anch'io sono un equilibrista, non so forse, no non io perché lì mi schianterei sicuramente, ma la sensazione che noi abbiamo è esattamente questa, cioè che tutto sommato quello che noi abbiamo è che camminiamo in un terreno molto minato dove nelle varie parti dello spazio ci sono una serie di informazioni e questo l'autonomia, il collega prima che ci ha chiesto che cosa posso fare per il mio paziente malato di SLA che vuole essere autonomo. Molto spesso questa autonomia viene controbilanciata e guardate che non vengono messe casualmente queste due forze che sono delle forze che molto spesso sbilanciano il paziente e il professionista della salute dalla posizione di garanzia e dalla responsabilità etica e professionale. Non vuole essere una lezione di medicina legale, ne faccio già troppe durante tutto l'anno, ma quello che mi preme ricordare è che la posizione del professionista della salute, quindi tutti i professionisti della salute nei confronti del paziente non è, ahimè, una posizione neutra. Abbiamo una posizione di garanzia, cioè dobbiamo tutelare, perché la carta costituzionale ci chiede questo, la tutela della salute e della vita. Nella declinazione di salute e vita naturalmente poi possiamo discutere sulla dignità, che è un concetto ulteriormente importante. Bilanciarsi e mantenersi in equilibrio molto spesso è complesso e sotto, se non c'è una buona rete rischiamo di cadere. Quello che è successo è che nel rapporto che abbiamo stabilito con i nostri pazienti, in realtà l'andamento è stato un po' alti e bassi. Abbiamo avuto un periodo di paternalismo forte, vecchissimo, dove il medico decideva, medico, l'unica professione sanitaria che c'era, decideva qual era il bene del paziente e non condividere assolutamente nulla. Siamo passati a un periodo di paternalismo debole, dove il ruolo del professionista della salute è dominante, predominante rispetto alla volontà del paziente, ma si tiene in considerazione il paziente. Siamo andati all'estremo opposto, massima autonomia, il paziente decide esattamente quello che vuole e noi siamo meri esecutori di quello che il paziente vuole. Queste due posizioni sono due posizioni necessariamente estreme e hanno sempre cercato di trovare una qualche forma di equilibrio e di mitigazione. Oggi siamo in una fase che viene chiamata shared decision making, anche se questa è una maniera forse più anglofana per dire paternalismo debole, ma ci ritorneremo dopo. I professionisti della salute, e utilizzo in realtà soltanto quello che ci dice il codice di ontologia medica, ma semplicemente perché è quello che perde un pochino più di tempo sul problema dell'informazione, ma c'è in tutti gli altri codici deontologici, dedica un capo intero, il capo quarto all'informazione e al consenso e ci dà delle linee guida da seguire per l'informazione che dobbiamo dare al nostro cittadino. E il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione. Eccola che iniziamo a introdurre elementi difficili, perché che cos'è un'idonea informazione? E se trattiamo il tema in questo ambito, cioè nell'ambito dell'ospice, delle cure palliative, beh insomma chi dà l'informazione? Cioè chi è il medico? Abbiamo sentito molto bene stamattina dal dottor Martoni, perché ha detto che i professori sono anziani e un po' rimbambiti, quindi insomma mi distinguo questa posizione. Il professionista della salute, o meglio l'equip, l'equip che è polimorfa, perché è fatta da persone che hanno esperienze e vissuti completamente diversi, eppure danno la stessa informazione molto spesso al paziente. E quindi il problema è che l'idonea informazione deve essere un'idonea informazione di equip, deve essere condivisa, non può essere frammentata, perché questo può generare naturalmente confusione. Se io sento tre medici che vengono l'uno dopo l'altro e mi danno informazioni diverse, sulla mia prognosi o sui sintomi, eccetera, eccetera, poi sento lo psicologo, poi sento il terapista, eccetera, eccetera, ho difficoltà a comprendere. Ma allora, qual è l'idonea informazione? L'idonea informazione è quella che mi serve per fare la migliore scelta, io ho messo lì razionale, no, non sono d'accordo che sia una scelta necessariamente razionale, sulla possibile per il professionista della salute di fornire l'adeguata informazione che sono, dal punto di vista etico e dal punto di vista giuridico, fondamentalmente tre modelli. Nessuno di questi tre modelli è perfetto, sono tutti perfettibili. Il modello professionale, cioè la qualità e la quantità di informazioni che io do al mio paziente, sono quelle che darebbe un professionista medio, un professionista della mia specializzazione che dà quel tipo di informazione. Troppo medico-centrico o professionista della salute-centrico, siamo noi che decidiamo quali sono le informazioni di cui il paziente ha bisogno. Può essere allora un criterio, un metodo di carattere soggettivo, cioè siamo pronti a rispondere a tutte le domande che ci fa il nostro paziente. Si è visto che anche questo in realtà non funziona, perché molto spesso il paziente è focalizzato su elementi che sono elementi non importanti, né per la cura, né per la sua prognasi, né per il suo stare bene, ma sono elementi particolari contingenti di quel determinato momento. E allora forse la soluzione è quella di l'informazione, la comunicazione, l'informazione che deve essere data è quella tipica di un agente tipo, cioè quell'informazione che noi riteniamo che un paziente medio, astratto, che ha quella determinata patologia, ne può avere bisogno, sempre essendo pronti però, a dare informazioni accessorie ogni volta che il nostro paziente ce lo chiede. Il secondo passo, dopo aver deciso che dobbiamo dare l'informazione adeguata al nostro cittadino, il problema è che dovrà comunicare e tenendo conto della capacità di comprensione, comunicare, in realtà il problema della comunicazione, il saper comunicare è un'arte, è un dono, ma si può imparare. Quindi questo in realtà è, facendo l'universitario, posso dire uno delle carenze del nostro sistema. Non ci sono, non c'è la possibilità di insegnare a tutti i professionisti della salute a comunicare, ad utilizzare gli strumenti della comunicazione. Ci sono bravissimi professionisti incapaci di comunicare, ci sono pessimi professionisti bravissimi a comunicare, dovremmo trovare dei medi professionisti che hanno però una buona capacità di comunicare. E l'altro problema è il problema della comprensione. Non è sufficiente in non dare il paziente di informazioni. È necessario essere sicuri che queste informazioni siano state recepite. Come? Facciamo l'esame? Beh, insomma, abbiamo la possibilità ogni tanto di ritornarci sopra e vedere se quel concetto che è stato trasmesso è stato recepito, fatto proprio digerito e utilizzato per poi prendere decisioni. Qui arriviamo a una cosa ancora più complessa. Dobbiamo fornirle, tutte le volte che diamo informazioni, prognosi grave, in fause o tutte quelle volte che possono procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, dobbiamo essere cosa? Prudenti, usando terminologie non traumatizzanti, senza escludere le menti di separanza e questo è quello su cui vorrei tornare successivamente. Prudenza. Insomma, il modello dei telefilm americani in cui il medico entra e dice hai un mese e mezzo di vita così, poi chiude la porta e fugge, in realtà non è accettabile, anche se è diritto del paziente di conoscere esattamente quali sono le sue aspettative. Altrimenti non può essere libero di autodeterminarsi, non può fare le scelte che caratterizzano la sua vita. una cosa importante che è emersa nella discussione di oggi, ho sentito molto spesso parlare di si danno informazioni alla famiglia, questo è un concetto, capisco, funzionale all'interno di una realtà, ma il paziente non può essere tenuto all'oscuro, il paziente deve sapere, tenendo bene in considerazione un fatto che è il diritto di non sapere ha esattamente lo stesso valore giuridico, etico, morale del diritto di sapere. Quindi io posso bypassare il paziente, la volontà del paziente, nel momento in cui chiedo al paziente se vuole essere informato e lui mi dice preferisco di no, mi affido a quello che sceglie Teo, mi affido a quello che sceglie mio figlio Giuseppe, non mio figlio Andrea, perché mio figlio Andrea è più come me, emotivo, eccetera, invece no, mio figlio Giuseppe. A questo punto tutti i discorsi che ho sentito fare sulla famiglia, eccetera, hanno senso. Il coinvolgimento del paziente che non può essere visto come oggetto della nostra, diciamo, trattamento, ma soggetto attivo, alleato con noi in quel trattamento è fondamentale. Senza escludere elementi di speranza. Io credo che questi termini all'interno del nostro codice dentologico hanno creato molta confusione, perché si è pensato di dire, si è pensato da molta parte di molti che senza escludere elementi di speranza significa che tutto sommato anche a sei mesi di prognosi, ok, io non posso dirgli che ha sei mesi di vita, ma devo in qualche maniera, diciamo, indorare la pillola, dirgli non ti preoccupare, viverai sicuramente un anno, due anni, tre anni, eccetera, eccetera. Non è questo. Mi interessa, c'è un numero intero di queste patient education e counseling del 2013, monografico su questo tema, e quello che si è visto è che la speranza ha molte facce, quindi non togliere elementi di speranza significa molte cose. Una cosa è che se c'è il trattamento possibile, con una buona qualità di vita si può fare questo, ma anche è la riassicurazione di non essere abbandonati. Insomma, non sono vecchio come pensa del dottor Maltoni, però la mia età ce l'ho. E mi ricordo bene che quando studiavo e passavamo con il nostro professore, i direttori, i baroni si chiamavano al tempo, ormai noi siamo vassalli della gleba, però va bene, davanti al letto delle persone che non avevano più speranza, tutto il codazzo di medici passava velocissimo, ok? E il paziente si chiedeva, ma perché? Quello era un non verbale, molto forte, non ho più gli strumenti, non sono in grado di darti cure e non voglio, perché non sono capace di prendermi cura di te, di darti assistenza. E qui si creava quella frattura terribile tra professionisti della salute medici e professionisti della salute infermieri che si sentivano naturalmente con un peso completamente sproporzionato. Il medico fuggiva e l'infermiere si trovava tutto il peso sulle spalle doveva gestire una fase difficilissima e qui nascevano poi i problemi sull'accanimento terapeutico, eccetera. Quindi il vero problema è che senza escludere elementi di speranza non significa fingere, non significa non dire la verità, significa semplicemente rassicurare che in qualsiasi fase ci sarà sempre qualcuno accanto che si prenda al meglio cura di te. Ma nella comunicazione, come abbiamo detto prima, insomma abbiamo molti modelli, abbiamo molte possibilità di fare. Oggi diciamo che questo sistema ha sei funzioni, è abbastanza diffuso, dove la comunicazione serve a che cosa? Ad aumentare e a far crescere l'alleanza, la relazione. A ottenere informazioni, a dare informazioni. Il processo dell'informazione naturalmente è bionivoco, nel senso che io acquisisco informazioni e do informazioni al mio paziente. Ha il problema di prendere delle decisioni, non né con autonomia né con paternalismo forte, ma in una condivisione di decisioni. Favorire una serie di comportamenti che sono comportamenti adeguati per la malattia e per il tipo di sintomi e poi naturalmente rispondere alle emozioni. In questo numero monografico di cui vi parlavo, in realtà tutte le ricerche di ricerca di biotica empirica, cioè sul campo, quello che hanno dimostrato è che ancora oggi, tutto sommato, la maggior parte delle ricerche mirano a controllare se viene aumentata questa relazione e il processo dell'informazione. Che se ci pensate è esattamente l'aspetto più antico del rapporto medico-paziente, quel paternalismo forte che esisteva. Nessun passo avanti si è fatto verso le funzioni più giovani, cioè prendersi cura per esempio delle emozioni, mette in atto un processo di decisione condiviso. Quando prima si è parlato della sedazione terminale, beh certo la sedazione terminale non può essere il coniglio che viene tirato fuori al momento in cui si verifica una determinata situazione. È un qualcosa che deve essere condiviso con il paziente e eventualmente con la famiglia in un processo graduale in cui ci si prefigura la possibilità che quel determinato evento si verifichi e io ho la possibilità naturalmente di esprimere le mie preferenze. Diverso dalle direttive anticipate, anch'io ho qualche problema con la direttiva anticipata. Il semplice problema è che in realtà molto considero una direttiva anticipata come una forma di consenso preordinato, cioè un dato in anticipo, quando il vero problema del consenso informato è l'attualità. Cioè io posso scegliere oggi una cosa che non avrei scelto ieri perché la mia decisione deve essere attuale in quel momento in cui si verifica. Darlo molto tempo prima insomma è complesso. Ma credo che un colloquio importante e profondo con il paziente per la sedazione terminale possa sicuramente essere una soluzione. Perché è così difficile la comunicazione? Facciamo tutti i giorni, parliamo continuamente, cioè il 90% della nostra attività è chiacchiere. Se noi andiamo a vedere il rapporto medico-paziente la maggior parte del tempo viene speso a dare informazioni eppure queste informazioni vengono date molto spesso non colpiscono il bersaglio. Cioè non sono quelle funzionali a quello che vuole il paziente in quel momento, ma perché quello che vuole il paziente in quel momento è molto complesso, dipende dalla famiglia. Quante volte avete sentito dire beh io sono stanco, io veramente la terapia non la vorrei più fare. Perché accetto, ho avuto una bella vita fino adesso, accetto anche che la morte faccia parte esattamente del ciclo vitale, ma lo faccio per la mia famiglia. Continuo a fare la terapia perché se smetto di fare la terapia la mia famiglia è in depressione. Oppure al contrario, la richiesta è eutanasica nel momento in cui ci si considera non più utili per la famiglia o addirittura un peso. Ok? Altro problema è che le capacità comunicative non sono soltanto dei professionisti della salute, ma in realtà bisogna anche avere la capacità e la possibilità di educare il paziente a fare domande. C'era un bell'articolo, adesso non mi ricordo, però pubblicato su una delle riviste importanti, non mi ricordo se è il New England Journal of Medicine o Lancet, su quanto tempo passa in un colloquio tra medico e paziente prima che il medico interrompa il paziente. Pochissimi minuti. Cioè il paziente comincia a raccontarsi e dopo un minuto, due minuti il medico già interviene. Ok? Quindi se già non ha la capacità il paziente di raccontarsi, dire quello che sente, quello che prova, eccetera, se ha dall'altra parte un ascoltatore che è un pessimo ascoltatore, naturalmente il processo di comunicazione completamente fallisce. E questo è la base per una buona relazione tra medico e paziente e per essere pronti. Quello che ho sentito è che, insomma, è il tema che mi è più caro, è che quando si parla di consenso informato e di informazione, eccetera, non è l'atto burocratico che poi va messo all'interno della cartella, ma è un processo e il processo implica che naturalmente ci siano diversi passaggi. Non tutta l'informazione deve essere data al primo momento. È il paziente stesso che decide, una volta che ha ricevuto l'informazione, l'ha fatta sua, l'ha fatta, diciamo, affondare dentro di sé quando è pronto per un'ulteriore informazione. Se la vuole. Il diritto a non sapere è equivalente a quello del sapere. Siamo sicuri che i nostri pazienti poi vogliono tutti questa grandissima autonomia e sapere, eccetera? Insomma, gli svizzeri, abbiamo scelto la popolazione apposta perché non si può dire niente agli svizzeri, tranne che sono molto seri e razionali. Quello che si è visto è che in genere gli si è chiesto quanto vuoi essere autonomo. Il 72% vogliono essere autonomi, in media il 38% non vogliono essere autonomi. E se andate a vedere, naturalmente le donne hanno un maggiore desiderio di autonomia rispetto agli uomini. Cioè, se a noi ci fate obbedire, siamo tutti contenti. Fateci scegliere, insomma, un po' meno. E l'altro problema è che questo desiderio naturalmente cambia anche con l'età. Tra i 30 e 39 anni il 64% in media vuole essere autonomo, cioè vuole essere informato e decidere per la sua salute, che diventa il 58% tra i 50 e i 60 anni. E più si va avanti, in genere maggiore, è la tendenza a non desiderarlo. Tanto è vero che quello che è stato chiesto, in quest'altro studio è, ma insomma, tu vuoi decidere te in maniera autonoma, oppure vuoi decidere sentendo l'opinione del medico, cioè quindi le tre forme, cioè l'autonomia soltanto del 18%, paternalismo 13%, il 68% vuole in realtà far parte di un processo in cui decide anche naturalmente sulla base di quelle informazioni che gli vengono date. Questa è la risposta al collega, aveva fatto la domanda prima sulla SLA. Io credo che questo aspetto sia fondamentale e che non può essere detto a priori, cioè non puoi dire se va all'interno di quella determinata struttura rispetterete sicuramente tutto quello che vuole. Questo è esattamente quello che dovrà essere creato all'interno di quella struttura da rapporto tra professionisti della salute che si prendono in carico il paziente e il paziente. Il paziente è libero naturalmente di scegliere qual è la sua volontà ed esprimerla in maniera netta e a questo punto, scusate che ho finito il tempo, ho ancora due diapositive brevissime, e quindi credo che questa possa essere una soluzione. Che cosa vogliono i pazienti? In questa che era in realtà l'editoriale dicono ma guardate è molto facile, vogliono un medico, un professionista della salute che prende il tempo per ascoltare il paziente. Stupido, ma io facendo poi un medico legale, molto spesso quello che vedo è che nei processi che si aprono, quello che viene detto da una parte è, ma io quel sintomo l'ho detto 20.000 volte al medico, il medico non l'ho mai mai ascoltato, vero. Quindi momento di autocritica, assolutamente vero. E questa è una ricerca che stiamo cercando di fare qui, cioè validare questo quality of end of life care, misura della Engelberg, un'autrice americana, che ha fatto una cosa molto interessante, ha fatto valutare i medici da chi? Dal paziente, alla fine della vita, dagli infermieri e dai caregiver, quindi dai familiari. Ok? Facendo una serie di domande, alcune di questi sono anche come, diciamo, dominio concettuale, quello sulla comunicazione. E alcune delle domande che sono state tradotte, sono state già somministrate, adesso devono essere somministrate in un campione più ampio, è il suo medico le presta ascolto? Il medico le incoraggia a porre domande? Parla con lei in maniera diretta e onesta? Guardate, l'onestà nella comunicazione è uno di quegli aspetti che viene molto percepito. Se non c'è l'onestà è difficile poi costruire un rapporto di fiducia e serio. Il suo medico le dà le cattive notizie in modo delicato, è disponibile a parlare del morire? Queste domande vengono fatte non al professionista della salute medico, ma vengono fatte ai pazienti, agli infermieri e ai caregiver per capire in realtà qual è la percezione dall'altra parte di quello che facciamo. Sono in questa maniera forse riusciremo ad fare un passo avanti. Già ci siamo accorti che il vero problema è questo qua, il suo medico. Chi è il mio medico? Chi è il medico curante? Cioè chi è il mio medico di riferimento? È il medico del palliativista? È il medico di famiglia? È lo specialista che mi ha fatto la diagnosi? Abbiamo già delle difficoltà rispetto al modello americano. Finisco semplicemente con questo, è un'immagine che utilizzo normalmente quando parlo di responsabilità professionale. Fare un mestiere difficile come il nostro senza rete sotto, perché questo è quello che facciamo, espone a rischi il professionista della salute, il paziente che si getta nelle sue mani e anche tutte le persone che gli stanno intorno e che fanno parte del gruppo familiare. Grazie.